Eccoci qui Mr. Helmet, siamo nel Track Motor Quality che è il distributore di Nex, è un marchio portoghese che fa questi caschi qui, l'ho provato in questi ultimi giorni, è un integrale in versione tricomposita, questa, ma c'è anche nella versione full carbon, è un integrale diciamo di fascia media che arriva sui 300-330 euro, qualcosa di questo genere qui, a seconda insomma degli stili che stanno ritoccando, è un prodotto nuovo, un turistico per fare qualche puntatina in pista, molto curato dal punto di vista delle finiture, questa è una specie di verniciatura gommata con uno stile caffè racer molto buono, è un marchio che si affaccia adesso sul mercato europeo, fa della cura dei dettagli diciamo la sua arma vincente, molto di qualità le prese d'aria e tutti gli accessori, gli interni molto buoni, è una pantofolona da faccia, si sta veramente comodi in questo casco qui, qualche punto d'ombra legato all'assemblaggio degli interni, se si fruga un po' si arriva a toccare il polistirolo, però quando si indossa non si sente, altre cose non fra le mie preferite, questo cinturino un po' secco, un po' asciutto, però devo dire chiude molto bene, ha un vantaggio, è molto lungo quindi non devi strangolarti per trovare la posizione ideale, ha anche il sottovento, ha il pinlock di serie e le meccaniche sono forse di qualche anno fa, nel senso che non sono le più moderne, però sappiamo già che la casa le sta cambiando, queste assomigliano a qualche premio di qualche anno fa, la visiera è un po' fluida, non ha gli scatti precisi e duri, però chiude bene, non ci sono grossi problemi. Qui le due entrate per l'ariazione, anche quella del mento, gli estrattori con effetto venturi, quindi a depressione, hanno queste griglie qui, molto ben fatte perché se spingi forte la griglia non rientra, quindi questo Nex è fatto abbastanza bene, anche se l'azienda sicuramente migliorerà dal punto di vista di alcuni tricks che le case europee più blasonate hanno già, ma da questi portoghesi ci aspettiamo molto. Pesa 1400 grammi, tutto finito, è il peso comprensivo di visiera, meccaniche e tutto il resto e in carbonio pesa molto molto meno, è un casco molto molto bilanciato. Le meccaniche sono semplici, anche se però diciamo che quando si toglie la visiera bisogna stare attenti alle vitine e far entrare bene la visiera. Qui è forse uno degli aspetti da migliorare, ma però non è un aspetto critico. A chi è rivolto? A chi fa del commuting, un po' di urbano, qualche puntatino in autostrada e anche un po' in pista. Lo stile è quello caffè racer, ci sono delle grafiche interessanti e questo è un marchio nuovo che bisogna tenere d'occhio. L'apporto di qualità prezzo ok e quindi seguite Motor Quality per vedere se questo Nex sia in versione tricomposita che full carbon vi piace e vi interessa. Ciao da Mr. Helm.